cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo torna un tempo più tranquillo e stabile grazie all'aumento della pressione atmosferica il dettaglio di martedì 12 marzo sul veneto sarà in prevalenza soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso al mattino sarà possibile qualche nube bassa o foschia in pianura temperature in contenuto aumento minime tra 4 e 7 gradi massime comprese tra 15 e 17 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso inizialmente avremo frequenti addensamenti ma a seguire il cielo si farà via via più sereno poco nuvoloso sui monti temperature minime sui 3 8 gradi massime intorno ai 14 15 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove sarà ampiamente soleggiato nel corso della giornata lungo la cresta di confine saranno possibili alcuni rovesci temperature minime sui 6 gradi massime intorno ai 16 gradi dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori grazie per la visione